Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro Tg6 che apriamo con la politica andando a Pescara per parlare del Ponte del Cielo che tante polemiche aveva suscitato nelle scorse settimane. Questa mattina è arrivato il pronunciamento ufficiale della sovrintendenza Abruzzo che ha bocciato il progetto caldeggiato e voluto dall'amministrazione comunale e dalla giunta regionale. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Ponte del Cielo bocciato dalla sovrintendenza. Dopo le osservazioni mosse dal centrodestra del comune di Pescara che tra le carte aveva addotto anche una lettera firmata a Tommaso Cascella arriva la notizia. La sovrintendenza ha definitivamente bocciato il Ponte del Cielo ma era naturale che ciò avvenisse perché quell'opera era assolutamente fuori contesto, lo hanno detto tutti, lo ha detto persino Tommaso Cascella, il figlio del maestro Pietro Cascella, ha detto che quell'opera avrebbe sicuramente creato un vulnus nei confronti dell'opera d'arte del padre. Il centrodestra ora prende la palla al balzo per chiedere di spendere i soldi destinati a quell'opera in opere più necessarie e utili per la città. Adesso cerchiamo di ragionare su come utilizzare queste risorse, sicuramente si potrebbero utilizzare per eliminare quei detrattori ambientali che sono i pennelli di massi perpendicolari alla spiaggia che oggi creano dei problemi e che invece potrebbero diventare quelli dei pontili fruibili in maniera leggera. Cerchiamo di ragionare per il bene della città. Andiamo a Teramo per parlare delle infrastrutture, soprattutto del dissesto idrogeologico perché il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina ha illustrato gli interventi sulle frane nei comuni montani, interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente, lo stanziamento da parte della Giunta regionale di fondi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici a carattere strategico. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Sono 10 gli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente con una contribuzione di 3 milioni di euro sulle frane nei comuni montani del Teramano, 10 milioni di euro i fondi per la messa in sicurezza degli edifici comunali a carattere strategico, stanziamento da parte della Giunta regionale. Ad annunciarlo questa mattina a Teramo, presso la sala consigliare del Comune, il presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Sono convinto che si è fatto un grande lavoro, prima di venire a Teramo siamo stati al Comune di Chieti e abbiamo anche ragionato con la provincia di Chieti. Adesso verifichiamo qui al Comune di Teramo lo stato di progressione dei finanziamenti. Oltre a questo poi presenteremo due elenchi di nuovi finanziamenti riguardanti 20 comuni, sia per la messa in sicurezza di edifici comunali, come sedi anche di strutture COC per la protezione civile, sia 10 interventi per 10 comuni per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico. Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico siamo praticamente in 15 mesi a circa 213 milioni di euro dati ai comuni. La regione è ente di programmazione e di finanziamento. Noi non appaltiamo, non siamo stazione appaltante nel 99% dei casi. Devo però dire che i comuni adesso devono procedere con sollecitudine a realizzare. Noi abbiamo fatto dei miracoli e continueremo a lavorare di anno in anno per recuperare lunghe stagioni quinquennali di disinteresse e di minimalismo per la manutenzione del suolo, per quella che si chiama l'opera di riordino del suolo e del sottosuolo, anche di riordino del sistema delle acque. Noi ci siamo molto concentrati su questo fronte e abbiamo messo in campo qualcosa come 213 milioni di euro e siamo ancora alla ricerca di risorse. Siamo alla cronaca, andiamo a Lanciano perché un incendio ha distrutto tre auto nella notte scorsa nella città frentana. La polizia ha acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 nei pressi di un edificio che ospita appartamenti ed un ristorante a spegnere le fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento con molta probabilità per l'innesco. Sono state utilizzate tanniche di benzina. Pare che nessuno dei proprietari dei veicoli incendiati abbia subito minacce nei giorni scorsi. E noi torniamo alla visita del Presidente della Repubblica ieri all'Aquila. L'argomento centrale nel colloquio tra il Procuratore della Repubblica dell'Aquila, Fausto Cardella, il Presidente della Repubblica, Mattarella, è stato proprio quello di rendere il sistema della ricostruzione degli appalti più trasparente in modo da arginare con norme più severe le eventuali scorrettezze. Daniela Rosone. Procuratore, l'incontro con Mattarella si è parlato anche di inchiesta della ricostruzione, magari di creare anche delle norme più severe in questo senso? Ma se ne è parlato ovviamente pubblicamente, questo è stato l'incontro. Io l'ho chiesta, ho rinnovato quella richiesta, poi non è neanche una richiesta, è un desiderio, un'aspirazione che ci sia una norma che cristallizzi quantomeno questa posizione dell'amministratore che noi abbiamo anticipato, alla quale noi siamo arrivati per via di interpretazione giuridica. Ma certamente se ci fosse una legge e questa legge disciplinasse ancora più severamente, più precisamente di quanto non sia già adesso il sistema degli appalti, dei subappalti, delle ditte, certamente sarebbe un grosso argine nei confronti dei rischi di legalità. Sono venute alla luce tante inchieste, segno che comunque anche la Procura sta facendo un ottimo lavoro. Ma guardi, noi ci sforziamo di fare il nostro lavoro al meglio, le inchieste ce ne sono, ce ne sono state, ma le potete contare voi direttamente perché sono tutte pubbliche, diciamo, sono ormai tutte venute alla luce, tranne quelle che stiamo facendo ancora. Ieri non erano riusciti ad incontrare il Presidente della Repubblica, gli agenti della forestale che hanno dato vita fuori il Tribunale dell'Aquila ad un sit-in di protesta. Il prefetto dell'Aquila, Alecci, li ha rassicurati dicendo che porterà le loro istanze alla Presidenza della Repubblica. La forestale, come è noto, dice no alla militarizzazione del corpo. Giorgio Alessandri. Non c'è stato l'atteso incontro con il Presidente Mattarella per chiedere un intervento urgente per bloccare l'ipotesi di scomparsa del loro corpo ultracentenario. Sono rimasti a bocca asciutta i forestali che durante l'inaugurazione del Palazzo di Giustizia hanno manifestato con un sit-in all'Aquila per ribadire la contrarietà al progetto di inglobamento con l'arma dei carabinieri. I forestali nel colorato sit-in hanno richiamato l'attenzione del Capo dello Stato reggendo ciascuno una lettera che componeva lo slogan Civili per Natura richiamando proprio l'ipotesi di militarizzazione del corpo prevista dal decreto sulla pubblica amministrazione del Ministro Marianna Madia. All'uscita dal palazzaccio il Presidente ha salutato i manifestanti dall'interno dell'autopresidenziale mentre il Prefetto Lecci ha però garantito che si farà portavoce delle rivendicazioni con il Presidente chiedendogli di intercedere con il Premier Matteo Renzi affinché si convochi un incontro a Palazzo Chigi. Ci aspettiamo quello che abbiamo già riferito la settimana scorsa al signor Prefetto dell'Aquila incaricato direttamente dal segretariato del Quirinale dove abbiamo sollevato quelle che sono le nostre preoccupazioni rispetto a questo progetto di riforma. Noi vogliamo in qualche modo che venga riorganizzato il Corpo Forester dello Stato così come la legge Madia prevede. Prima ancora che il Governo preveda che noi possiamo essere eventualmente assorbiti ad altra forza di polizia quindi evitando lo spezzettamento, evitando che tutte le professionalità e tutto ciò che abbiamo acquisito nel tempo anche rispetto alla funzione svolta fino ad oggi possa essere in qualche modo disciolta in maniera poco corretta. Noi torniamo a parlare degli attentati che ci sono stati nei giorni scorsi a Parigi in Francia e proprio ieri all'aeroporto di Pescara sono atterrati abruzzesi, pescaresi ma anche cittadini italiani di altre regioni che avevano passato un weekend diventato davvero terribile proprio nella capitale transalpina. C'era anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ad accogliere i turisti gran parte abruzzesi e pescaresi ma anche di Marche, Puglia e Molise del volo Ryanair Parigi-Pescara di ritorno dalla capitale francese dopo la strage terroristica dello scorso fine settimana. Un po' l'abbiamo visto perché eravamo lì quindi abbiamo iniziato a vedere gente che correva e poi un po' ci hanno avvertito però pian piano abbiamo capito cosa stesse succedendo. Una volta in albergo sì. Tornerete comunque in Francia? Certo come no, sì sì. Abbiamo passato una notte molto molto agitata per noi e soprattutto anche di frenesia perché non capivamo cosa stesse succedendo. Eravate molto distanti dai luoghi degli attentati? Purtroppo no, purtroppo no. Eravamo a cento metri dal Bataclan con la TEL quindi purtroppo abbiamo assistito quasi in diretta a ciò che era successo. Tanta polizia per la strada, tanta paura, tanto terrore. Sì 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 sia la notte stessa che anche i giorni dopo la città era proprio in un clima surreale giustamente perché un atto del genere sembra ingiustificato, è ingiustificato, è andato a colpire i ragazzi giovani della mia età in un quartiere super giovane, quindi ci ha colpito direttamente anche a noi, ovviamente non fisicamente ma molto nella testa quello sì. Tanta polizia in strada? Polizia quando ne vuole. All'aeroporto? All'aeroporto sì. Maggiori controlli rispetto? Qualcuno in più sì però, più o meno i soldi controlli. C'era l'esercito, all'aeroporto è basta. Polizia girava, sì, testi di cuoio che vedevi in macchina prima di partire sempre in pro. Tornerà lei in Francia, a Parigi? Dopo che passa la paura può incadarsi, ora non è difficile. E' ancora viva nelle parole di queste persone la paura e il terrore che si è vissuto in queste ultime ore. Loro malgrado si sono trovate nell'epicentro di una delle cose più gravi che è accadute in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. con quelle persone con cui ho parlato, insomma accolto il fatto che difficilmente dimenticheranno questo fine settimana. Poi la necessità in qualche modo che le nostre vite ritornino come quelle di prima, che non si abdichi al diritto di viaggiare, di andare in un ristorante piuttosto che in un teatro ad ascoltare musica, perché sembra che un po' questa guerra e i valori dell'Occidente vanno nella direzione di infonderci la paura. Ma noi dobbiamo resistere e dobbiamo continuare a vivere la nostra vita giorno dopo giorno. Passiamo alla politica, andiamo a Roseto perché si scalda il clima nella città adriatica in vista delle prossime elezioni amministrative che porteranno all'elezione del nuovo sindaco e il primo cittadino attuale, Ennio Pavone, smentisce le voci di un accordo tra Tommaso Ginobile e Paolo Gatti per spaccare la coalizione di centrodestra e ribadisce di essere l'unico candidato del centrodestra alle prossime elezioni. Vediamo il servizio. Ho fatto degli incontri con i gruppi che sostengono la nostra coalizione, abbiamo fatto un tavolo politico nel mese di agosto, successivamente ho incontrato delle delegazioni, ogni delegazione ha espresso con i propri rappresentanti quelli incontrati e fino ad oggi la volontà di rimanere in questa coalizione, di sostenere il sindaco uscente e quindi tutto questo sono chiacchiere che in questi momenti nella città di Roseto c'è un fermento politico di incontri, riunioni, cene, bar, ecco fanno la fortuna dei bar e dei ristoranti, almeno le elezioni in questo momento. Ennio Pavone sarà dunque il candidato unico del centrodestra a Roseto? Questo è quello che è uscito dalle indicazioni che abbiamo avuto con i rappresentanti dei movimenti e dei gruppi che hanno sostenuto la mia amministrazione e quindi io ho dichiarato la mia disponibilità da sempre, da qualche mese ufficializzata e quindi Ennio Pavone sarà il candidato sindaco che sentiamo e abbiamo la possibilità, secondo me, addirittura di tentare il colpaccio al primo turno. A proposito di incontri, lei domenica scorsa ha incontrato a Montesilvano il leader nazionale della Lega Matteo Salvini? Sì, Salvini è stato già qui a Roseto nel mese di settembre, successivamente abbiamo avuto rapporti con i loro riferimenti regionali, c'è un percorso iniziato e ho incontrato di nuovo Salvini a questa manifestazione qui a Montesilvano, la Noi con Salvini è un movimento che organicamente sta nel centrodestra e quindi ci sono tutti i presupposti affinché la lista Noi con Salvini possa essere, adesso saranno i loro dirigenti, si stanno ancora strutturando in maniera organica, ma ci sono tutti i presupposti politici affinché la lista Noi con Salvini sia un alleato forte e convinto della nostra coalizione. Il piano di tutela delle acque in Abruzzo slitta al 2027 per decisione del Consiglio regionale che ha chiesto il rinvio, gli ambientalisti abruzzesi lanciano l'allarme sullo stato delle falde acquifere. Il Consiglio regionale chiede il rinvio del piano di tutela delle acque che slitta ora al 2027, un piano che prevedeva il risanamento dei fiumi abruzzesi, dello spinoso problema delle falde acquifere e che comprende anche ricadute economiche sui comparti del turismo e dell'agricoltura, secondo il forum dei movimenti dell'acqua. Crediamo che non sia un piano di tutela delle acque, ma forse è più un piano per tutelare qualche funzionario dai problemi che stanno venendo fuori, nel senso che è inaccettabile rinviare al 2027, chiedere una deroga appunto al 2027 per il risanamento dei fiumi. Noi dobbiamo salvare i nostri fiumi oggi, non fra 12 anni. Poi anche i corpi idrici sotterranei, c'è le falde, l'acqua che non vediamo ma che c'è ed è molto importante anche per il nostro futuro, c'è una condizione molto complicata, difficile di inquinamento. Una situazione che preoccupa quella dello stato di salute dei fiumi, argomento giunto alle cronache più e più volte che oggi a Pescara vede intervenire il sindaco Marco Alessandrini per ordinare il blocco della Pescale Vongole per un caso di Salmonella. Questo diventa un problema sanitario prima di tutto, ma anche un problema per il turismo, perché si parla tanto di incentivare il turismo che probabilmente è una delle nostre risorse principali in questo momento e invece con questo piano di tutela delle acque non tuteliamo quello che è il nostro bene principale. Cambiamo pagina, si rinnova anche oggi l'appuntamento con lo Startup Day, l'Università degli Studi di Teramo torna a promuovere questa iniziativa per favorire l'imprenditorialità giovanile e l'innovazione. Tra università e innovazione si rinnova anche oggi presso l'Università di Teramo l'appuntamento con lo Startup Day? Sicuramente si rinnova, è un appuntamento che vorremmo rendere istituzionale con la proposta di un festival delle Startup. Oggi iniziamo presentando delle aziende che sono riuscite a vincere la sfida. Un dato interessantissimo è stato presentato dal Censis lo scorso 9 ottobre in conclusione dell'attività dell'Expo di Milano. Nel secondo trimestre 2015 sono state create 300 nuove aziende al giorno da imprenditori con età inferiore ai 35 anni. Sono in qualche modo riconducibili e assimilabili a delle Startup non solo per le attività che svolgono ma anche per come sono state concepite queste aziende. Noi vogliamo far sì che i nostri giovani possano partecipare a questo evento di innovazione, a questo evento di rinascita, a questo evento di sviluppo economico, uno sviluppo durevole nella misura in cui sarà possibile realizzare e creare Startup, creare nuove aziende e rilanciare il nostro territorio. Credo che questo dia senso e significato alla presenza di una università sul territorio. E noi torniamo a Roseto degli Abruzzi dove l'amministrazione comunale ha presentato questa mattina il primo corso di difesa riservato alle donne. Sono previsti parti teoriche e parti pratiche. Vediamo di cosa si tratta. Purtroppo ogni giorno la cronica nazionale riporta questi femminicidi o episodi di violenza contro le donne. Io facendo un corso di aggiornamento di autodifesa mi è venuto in mente di organizzare questo corso di base, di prima difesa, riservato alle donne, proprio perché le donne debbano essere pronte contro queste purtroppo spiacevoli situazioni che si possono verificare. Allora, noi nella parte pratica, che è la parte in cui c'è lo scontro fisico, cercheremo di trasmettere quelle nozioni che vengono estrapolate, come dicevo prima, da alcune tecniche di arti marziali e vengono poi adattate alla fisicità di una donna. E naturalmente utilizzeremo anche alcuni attrezzi che saranno il capsicum, cioè lo spray al peperoncino, in modo tale che coadiuverà alla forza fisica e quindi di conseguenza cercherà di allontanare il più possibile il pericolo. Dottoressa, Simona Prosperi si occuperà della parte mentale e psicologica di questo corso, cioè? Praticamente aiuterò le donne ad acquisire la consapevolezza di come possono utilizzare le risorse mentali ed emotive per poi affrontare quella che è la situazione di violenza, perché purtroppo quando poi si è sulla strada e non ci si aspetta l'aggressione si rischia poi di essere bloccati dalla paura, quindi si acquisiranno degli strumenti proprio per gestire meglio la paura e per poter difendersi al meglio, sia durante l'aggressione che prima per cercare di ridurre proprio il rischio. E noi siamo alla pagina degli eventi, il Festival dei Due Parchi inaugura domenica 22 novembre in collaborazione con il Comune di Civitella, la polisportiva Antroposport e Antroposervice, il nuovo sentiero creativo dell'Ecotrail di Montesanto Memorial Melania Rea. Il Festival dei Due Parchi inaugura il nuovo sentiero Ecotrail di Montesanto Memorial Melania Rea. Siamo giunti a questa terz'ultima tappa per il 2015, si tratta di una gara di corse in natura che si chiama Ecotrail di Montesanto e che poi abbiamo voluto dedicare a Melania Rea e quindi sarà un memorial Melania Rea. Poi avremo altri due appuntamenti con il Festival che saranno la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di poesia il 29 novembre ad Ascoli Piceno. Per chiudere di nuovo nei territori di Civitella del Tronto e quindi alle porte del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga il 20 dicembre con la Maratonina Rosa dedicata alle donne, percorso su strada di 10 chilometri e mezzo. Appuntamento domenica 22 novembre a Villa Lempa. Durante la manifestazione l'amministrazione porrà una targa commemorativa nel Bosco delle Casermette. Per tracciare questi trail e questi percorsi ci siamo imbattuti in questa vegetazione diversa dalle solite conifere che sono in un parco e ci siamo resi conto che in quel luogo era avvenuto l'evento della Melania Rea. La cosa ci ha toccato sensibilmente e quindi in quel punto l'emozione più grossa che abbiamo avuto è quella di riportare la vita in quel luogo. Quindi con il Presidente del Festival abbiamo scritto alla Famiglia Rea che contenti hanno dato il benestare a questa manifestazione. Per chi vuole partecipare? Partenza dalla Piazza del Mercato di Villa Lempa, ritrovo dalle ore 7.30, partenza alle 9.30. Il percorso che partirà appunto da Villa Lempa arriverà fino alle Casermette, proseguirà poi dalle Casermette fino alla frazione di Villa Passo, girerà intorno all'abbazia di Montesanto, in particolare al Colle e poi ci sarà l'arrivo lì in piazza a Villa Lempa. 13 appuntamenti che spaziano dalla letteratura, alla cultura, alla storia, alla filosofia e all'arte. L'Istituto Nazionale di Studi Crociani presenta il cartellone dell'iniziativa Attualità Culturale in Dialogo. L'attualità culturale in dialogo si fa quella che è una cronostoria per vedere quali sono stati gli aspetti, i nuovi aspetti, quelli che c'erano e quelli che hanno conservato. In questo caso si affrontano sotto diversi punti di vista e sono degli appuntamenti che iniziano il 30 novembre. Sì, l'Istituto Nazionale di Studi Crociani, riprendendo le leità appunto di Benedetto Croce, vuole favorire un'operazione, se vogliamo, di divulgazione che speriamo possa essere alta e che possa essere anche gradevole per le persone, per gli appassionati. Cioè affrontare insieme, in più che conferenze e dialoghi, le novità che la saggistica nel campo della letteratura, della storia, della filosofia e dell'arte ha proposto negli ultimi anni. Siamo in un mondo in continua trasformazione, abbiamo sempre bisogno di lenti nuove per conoscere e svolgere insomma quell'impegno costante che Benedetto Croce ci insegnava a svolgere quotidianamente. È un invito che è rivolto non solo agli addetti del settore ma anche a chi? Tutti quelli che hanno un'idea gratuita del sapere e che si incuriosiscono a quello che si scrive. Siamo in un paese in cui tanto si pubblica ma poco si legge. Vogliamo dare una mano, una mano cioè intanto con dei colleghi, degli amici, ne discutiamo, ne parliamo e abbiamo anche la speranza che magari qualcuno incuriosito dalle nostre parole possa fare il passo successivo di leggersi questi libri. Siamo alla pagina dello sport, il calcio per parlare del Pescara, già a lavoro da ieri per la sfida di venerdì sera con l'Avellino allo stadio Adriatico, gara molto sentita, in vendita già da sabato scorso i biglietti della sfida con gli Irpini. Questa mattina i biancazzurri si sono allenati al poggio degli ulivi. Brutte notizie per Campagnaro che è rimasto fermo per il problema al Polpaccio che aveva creato problemi all'Argentino anche nelle settimane precedenti. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni. Fermo questa mattina ma per motivi precauzionali anche Caprari che non dovrebbe saltare la gara con i biancoverdi campani. Intanto rientreranno domani a Pescara i nazionali Mandragora e Verre. Noi abbiamo ascoltato Ben Ali, uno dei grandi protagonisti della vittoria di Como. Ben Ali da qualche partita è diventato un giocatore decisivo per il Pescara. Cosa è cambiato rispetto all'inizio per te? All'inizio non lo so, magari non ho fatto il ritiro con questa squadra quindi ci voleva un po' di tempo ad adattare magari. Poi il mister mi ha aiutato tanto, la squadra è anche un gruppo fantastico quindi qui mi trovo molto bene, sento un giocatore importante però ci sono altri giocatori che sono importantissimi in questa squadra. Questa partita con l'Avellino è importante dopo la vittoria di Como nell'ultima partita a Casalinga c'era stata questa sconfitta con la Ternana ora bisognerebbe tornare a vincere all'Adriatico. Sì, capita durante l'anno che perdi una partita, perdi due però sicuramente abbiamo dato un segnale importante perché abbiamo fatto una partita un po' difficile poi sofferto tanto contro il Como però alla fine abbiamo portato il caso tra i punti e adesso cerchiamo di fare lo stesso coso con l'Avellino. Oggi la classifica dice play-off ma un pensierino almeno al secondo posto sotto sotto lo state facendo in prospettiva futuro ovviamente? Siamo capaci, siamo una squadra forte come giochiamo noi penso che io non gioco come nessun altro poi dobbiamo vincere contro queste squadre abbiamo perso contro il Ternana però siamo tornati contro il Como dobbiamo vincere queste partite importanti contro le squadre come Cesena, Spezia che sono contro i play-off quindi sicuramente vedremo in queste partite dove possiamo andare. Bellino, squadra ostica notoriamente difficile da affrontare avete già parlato con il tecnico della formazione campana? Sì, abbiamo la nostra idea poi sarà sicuramente una partita importante è una partita tosta è una squadra che ti attaccano non ti fanno giocare tanto però confrontiamo le partite come affrontiamo gli altri. Ricordiamo che nel Pescara tornerà a disposizione anche il difensore Fornasier dopo aver scontato il turno di squalifica parliamo ora del Lanciano che prepara la gara di Chiavari con Lentella in questo caso si giocherà regolarmente sabato prossimo alle ore 15 problemi per il tecnico d'Aversa con Manuel Turchi che prosegue gli allenamenti differenziati con Amenta e Ferrari che invece sono ancora fermi per gli infortuni che hanno impedito i due giocatori di scendere in campo nella gara con il Crotone noi nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare proprio il tecnico Rosso Nero Sì, per come si era messa sicuramente è chiaro che se uno va a fare un'analisi nella partita credo che nel primo tempo qualcosa di più avremmo meritato però l'episodio ci ha condannato e poi siamo stati bravi a recuperare una partita dove comunque anche il Crotone ha avuto occasioni per chiuderla però penso che la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi abbia preparato questi ragazzi che sono incognabili per quanto riguarda l'atteggiamento perché penso che solo l'atteggiamento messo in campo gli ha permesso di recuperare una partita contro una squadra ben organizzata bisogna guardare l'aspetto positivo sicuramente da migliorare perché non è possibile magari creare tante situazioni e non crederizzarli anche se devo dire che alcune sono state un po' fortuite tipo la deviazione che comunque è andata a sbattere sulla traversa a differenza magari che non le deviazioni vanno in porta però altre circostanze mi viene in mente Eric, Lanini dove era solo e poteva stoppare la palla e altre situazioni e bisogna migliorarle bisogna avere più voglia e determinazione in entrambi le fasi sia quando magari c'è da concludere sia quando magari c'è da proteggere un risultato Siamo alla Lega Pro per parlare del Terramo 6 punti in due gare quanto ha chiesto alla squadra il patron della società biancorossa Luciano Campitelli che ieri ha parlato anche alla stampa rivelando di aver suggerito al tecnico Vincenzo Vivarini di adottare il modulo 433 Quell'obiettivo a tutti i nostri tifosi e a noi in primis ci è rimasto in testa se non sarà quest'anno sarà spero tra qualche anno ma sicuramente sarà l'obiettivo l'obiettivo della salvezza credo che in questo momento non lo voglio neppure pensare ma non lo voglio pensare neppure fra qualche anno per noi fra qualche anno l'obiettivo è quello senza dire cosa ma è quello e prima o poi Terramo dovrà andare su quello perché lo ha dimostrato che lo può fare perché noi lo abbiamo vinto nella vita molte volte le persone vanno premiate loro in quel momento andavano premiati però poi succede che quel premio ti rilassa perché se tu devi conquistare un qualcosa ti impegni tanto per poterlo conquistare poi dopo che l'hai conquistata potresti che ti stufi e la lasci quel qualcosa quindi sicuramente ad alcuni ha impluito negativamente ad alcuni ha impluito negativamente volete sapere come mi piacerebbe giocare a me col 4-3-3 adesso se proprio ve lo devo dire a me piacerebbe giocare col 4-3-3 ma ci stiamo avvicinando quindi piano piano ci avviciniamo perché purtroppo per poter sicuramente trovare l'amalgama giusta per me è facile dire ma poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo i calciatori c'è di mezzo il tempo per poter sicuramente metterli in mezzo al campo ma io penso che prima o poi ci arriveremo questa è una squadra che fin quando non ci diranno i punti o i non punti che non ci ridanno o ce li ridaranno oggi deve pensare a salvarsi glielo ho detto e basta di partita in partita domenica voglio tre punti in casa voglio tre punti e poi vediamo che succede perché le prossime due partite per noi sono indispensabili perché dobbiamo riportare a casa sei punti con le parole del presidente del terramo Luciano Campitelli noi siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6 come sempre vi ricordo la seconda alle 19 grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti